Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi amici parliamo della storia di Tina e Gabe Watson. Cristina detta Tina Watson nasce il 13 febbraio del 1977 in Germania ma si trasferisce negli Stati Uniti quando è ancora solo una bambina. Il 21 gennaio del 1980 viene adottata legalmente da Tommy e Cindy Thomas e passa tutta la sua infanzia in Alabama insieme ai suoi genitori e alla sua sorella minore Elena. Tina è una ragazza solare felice con uno spiccato accento del sud e un sorriso contagioso e bellissima sia dentro che fuori con i suoi capelli biondi e due fossette sulle guance che le vengono fuori ogni volta che sorride. Tina ama la vita al potere di renderla divertente. La loro è una famiglia molto unita. Tommy e Cindy sono molto protettivi verso le loro figlie, non le perdono mai di vista e sanno sempre dove sono e cosa stanno facendo. Quando Tina è ancora una bambina però le viene diagnosticata la tachicardia parossistica sopraventricolare che è una condizione caratterizzata da una frequenza cardiaca regolare e veloce dai 160 ai 220 battiti al minuto che inizia e si arresta improvvisamente. I soggetti affetti da questa condizione lamentano ovviamente il fastidio delle palpitazioni ma anche respiro affannoso, dolore toracico e nei casi più gravi anche svenimenti o addirittura convulsioni. Se tenuta sotto controllo non è pericolosa ma se non trattata potrebbe addirittura risultare fatale. Tina assume diversi farmaci che però non migliorano la situazione quindi nel 2001 all'età di 24 anni decide di sottoporsi ad un'operazione che finalmente risolve la cosa liberandola da qualsiasi problema legato al suo cuore. Tina crescendo inizia ovviamente a frequentare diversi ragazzi, ha un paio di relazioni serie durate qualche anno fino a quando a gennaio del 2001 incontra un ragazzo di nome Gabe Watson. David Gabriel Watson detto Gabe incontra Tina all'università. È un ragazzo tranquillo, educato, uno studente mediocre, appassionato di sport, molto bravo nel basket, aiutato anche dalla sua altezza perché era alto un metro e novantatré ed è soprattutto appassionato di sport acquatici come il diving, le immersioni subacquee. Quando Tina e Gabe si incontrano lei è fidanzata con un altro ma Gabe la corteggia, le chiede di uscire parecchie volte e lei risponde sempre di no essendo già impegnata. Questo però fino a capodanno del 2001. Tina e il suo ragazzo si sono appena lasciati e lei e Gabe si ritrovano alla stessa festa per l'anno nuovo e dopo aver passato tutta la serata insieme Tina finalmente accetta di uscire con lui e da quel momento i due iniziano una vera e propria relazione. Dopo la laurea Tina diventa responsabile del reparto per bambini di un negozio di vestiti in un centro commerciale della sua città mentre Gabe inizia a lavorare nell'azienda di suo padre David Watson. Come vi ho detto prima Gabe è appassionato di sport acquatici soprattutto lo scuba diving e dice a Tina che se voleva stare con lui avrebbe dovuto condividere con lui queste sue passioni e questo per gli amici di Tina era uno scherzo, una barzelletta. Nessuno la immaginava fare immersioni neanche veramente per scherzo. Una sua amica racconta che Tina odiava bagnarsi i capelli. Quando dovevano nuotare in piscina nelle ore di ginnastica a scuola Tina si inventava sempre mille modi diversi per evitare di bagnarsi i capelli o nuotava in tutti questi modi ridicoli solo per riuscire a tenere la testa fuori dall'acqua. Ma sapevano anche quanto Tina amasse Gabe e sapevano che avrebbe fatto di tutto per accontentare le persone che amava quindi non sono rimasti troppo sorpresi quando alla fine aveva accettato di andare a fare immersioni insieme a lui. Nel gennaio del 2003 Tina comunica ai suoi genitori che appunto avrebbe iniziato a prendere lezioni di immersioni e loro sono un po' preoccupati all'idea. La mettono in guardia ricordandole i suoi trascorsi e i suoi problemi al cuore. Non capiscono perché voleva per forza iniziare a fare questa cosa solo per Gabe. Condividono con lei anche i loro dubbi su Gabe in generale. A suo padre quel ragazzo proprio non piaceva. Aveva anche provato a parlargli una volta e il modo in cui Gabe gli aveva risposto gli aveva fatto storcere il naso. Aveva provato a farlo ragionare chiedendogli perché stesse spingendo sua figlia a fare questa cosa sapendo dei problemi al cuore che aveva avuto e dei pericoli che avrebbe corso. Al che Gabe gli aveva risposto che così come Tina gli faceva fare cose che piacevano solo a lei allora anche lei avrebbe dovuto fare cose che piacevano solo a lui e a lui piaceva fare immersioni. Il 10 febbraio del 2003 Gabe chiede al padre di Tina il permesso di farle la proposta di matrimonio ma lui non glielo dà cioè non gli risponde di no perché sa di non poterlo impedire però racconta di non aver mai detto a Gabe che la cosa andasse bene. Ma lui compra comunque un anello di fidanzamento e i suoi amici raccontano che stuzzicasse molto Tina era come se la manipolasse con l'idea di una proposta di matrimonio spingendola a fare cose dicendole che se lo avesse fatto magari lui le avrebbe fatto la proposta magari no magari aveva già comprato l'anello magari no. A detta di Gabe però stava solo temporeggiando cercando il momento perfetto per appunto farle la proposta e alla fine a quanto pare lo trova perché il 28 aprile del 2003 chiede a Tina di sposarlo. I genitori di lui sono felicissimi, amano Tina e la accolgono nella loro famiglia come se fosse una figlia. La famiglia di lei un po' meno. Erano convinti che Gabe non amasse davvero la loro figlia ma che gli piacesse avere qualcuno da controllare, che facesse tutto quello che Gabe voleva. Ma Tina era innamorata di lui quindi chiaramente alla fine hanno dovuto accettare la cosa. Il 26 settembre del 2003, solo poche settimane prima delle nozze, Tina va a trovare i suoi genitori e gli comunica l'intenzione di voler incrementare il valore della sua assicurazione sulla vita. Ora una cosa da sapere è che suo papà Tommy lavorava proprio nel settore delle assicurazioni e racconta che mai nei suoi 25 anni di carriera aveva visto una cosa del genere. Una giovane coppia che stava per sposarsi che si preoccupava di una cosa del genere. Era bizzarro. Tina gli risponde che era stato Gabe a proporglielo e le aveva anche detto che ora che si sarebbero sposati sarebbe dovuto essere lui l'unico beneficiario della sua polizza sulla vita. Tommy quindi suo papà le risponde di non preoccuparsi di questo adesso che se ne sarebbero occupati dopo il matrimonio. Le dice di concentrarsi su quello, sulle cose belle. Tina gli risponde che era preoccupata, non sapeva che cosa avrebbe risposto a Gabe se gliel'avesse chiesto. Al che suo padre le risponde tu digli che abbiamo fatto tutto poi quando tornerai dalla luna di miele a novembre ti aiuto davvero e facciamo tutto. Per ora non ci pensare non è una priorità. Il matrimonio si svolge l'11 ottobre del 2003. Tommy accompagna sua figlia in chiesa su una limousine e prima di scendere dalla macchina le dice che la ama, che vuole che sia sempre felice e che se solo avesse anche solo un piccolissimo dubbio lui l'avrebbe portata via di lì all'istante. Non avrebbe dovuto sposarsi se non fosse stata sicura. Insomma Gabe al padre di Tina proprio non piaceva e ha sperato fino all'ultimo che lei cambiasse idea. Tommy racconta che per tutto il giorno ha avuto una sensazione orribile, di disagio. Sentiva che anche se lei gli aveva giurato di essere sicura, sentiva che in fondo non lo era. Sentiva che Gabe non si sarebbe preso cura di lei come avrebbe meritato. E faccio una piccola parentesi perché io vi ho presentato Tina come Tina Watson e questo è perché il suo cognome non si conosce, nel senso è stata adottata quindi ha preso il cognome ovviamente dei suoi genitori, Thomas, però anche nei media insomma è conosciuta con il cognome di Gabe che diventa appunto suo marito, lei prende il cognome di Gabe quindi il suo nome ufficiale è Tina Watson per questo ve l'ho presentata così. Quindi quel giorno Tina e Gabe si sposano e la sera Tommy dà un ultimo abbraccio a sua figlia, le dice che la ama e poi stringe il braccio di Gabe e gli dice prenditi cura della mia bambina. Ma quella purtroppo è l'ultima volta che Tommy vedrà sua figlia. Il giorno dopo Tina e Gabe partono per la loro luna di miele in Australia. Il piano era di stare due settimane e di fare un sacco di immersioni lì. Gli amici di Tina le avevano chiesto se fosse sicura di voler passare tutta la sua luna di miele facendo immersioni e lei gli aveva risposto di sì che non vedeva l'ora e aveva sempre voluto vedere le tartarughe. Passano quindi la prima settimana a Sydney a visitare la città e la seconda a Queensland per le immersioni. Gabe si era messo in contatto con un centro di diving del posto e aveva prenotato un'escursione di sette giorni a bordo della barca Spoilsport. Avrebbero fatto circa 3-4 immersioni al giorno per sette giorni visitando varie barriere coralline, aree remote in cui l'acqua era perfetta per immergersi ed era così trasparente da riuscire a vedere fino a 4 metri e infine avrebbero anche visitato il relitto sommerso della famosa SS Yongala che è una nave affondata nel 1911. Gabe era un diver molto esperto, faceva immersioni da molti anni, aveva il brevetto ed era anche un rescue diver certificato ovvero i diver da salvataggio, quelli che si immergono per salvare le persone o che tirano sui diver che magari non si sentono bene o che magari vanno nel panico durante un'immersione. Tina come abbiamo visto era molto meno esperta di lui ma ovviamente si sentiva al sicuro e aveva passato anche le settimane precedenti a questo viaggio preparandosi per l'occasione. Il 21 ottobre sera Tina e Gabe si dirigono al porto per imbarcarsi sulla Spoilsport, la barca che li avrebbe appunto portati in giro per i sette giorni successivi. Era un catamarano di circa 30 metri con tre ponti, quattro cabine e anche diciamo un piccolo ristorantino insomma con uno chef a bordo che preparava diversi pasti per i turisti. La coppia era emozionata di cominciare questa nuova avventura. Si imbarcano con tutti i loro bagagli e l'attrezzatura da sub che si erano portati da casa e verso le 10 di sera la barca salpa e prende il largo. La prima sera la coppia si rilassa in cabina e poi va sul ponte al meet and greet con gli altri turisti a bordo. I due fanno subito amicizia con tutti, come vi ho detto prima Tina era una persona molto solare, molto amichevole e la coppia riceve comunque anche un sacco di attenzioni in generale dai presenti essendosi appena sposati, essendo in luna di miele e fanno amicizie anche soprattutto con un'altra coppia, anche loro americani di nome Ken e Paula Snyder. Il responsabile del viaggio è Wade Singleton che come da policy aziendale fa un giro di presentazione di tutti i presenti e poi singolarmente prende da parte tutti quanti e ad uno ad uno fa una specie di colloquio insomma fa diverse domande sulla loro esperienza, che livello di esperienza avevano insomma cose così. La regola vuole che questi piccoli colloqui vengano fatti singolarmente in modo che uno non possa influenzare l'altro magari dicendo di essere più esperto di quello che in realtà è ma quella volta invece Gabe e Tina vengono intervistati insieme. In questo colloquio comunque Gabe racconta appunto di essere un diver molto esperto con tutti i suoi brevetti certificati mentre emerge invece che Tina possedesse molta meno esperienza, era infatti quella con meno esperienza di tutti a bordo. Wade il responsabile quindi consiglia a Tina di fare insieme a lui una specie di piccolo corso perché l'immersione al relitto Yongala sarebbe stata piuttosto impegnativa ma Gabe e Tina rifiutano dicendo che tanto sarebbero stati sempre insieme quindi Tina non necessitava di questo corso in più. Wade il responsabile aveva fatto una specie di tabella in cui aveva categorizzato tutti i diver a bordo in base alla loro esperienza. I rossi erano quelli più esperti, i gialli quelli medi e i quelli con meno esperienza di tutti. Gabe era nella categoria rossa con 55 immersioni alle spalle mentre Tina era nei verdi con sole 5 immersioni alle spalle. Dunque questa escursione sarebbe durata appunto una settimana e la tabella di marcia prevedeva che il relitto Yongala fosse l'ultima tappa del viaggio perché era la più bella ma siccome si trovava in mare aperto spesso le acque non erano facilmente navigabili. Di conseguenza il regolamento prevedeva che se il tempo e le acque fossero state particolarmente belle già il primo giorno allora si sarebbero diretti subito lì alla Yongala come prima tappa e questo è proprio quello che succede in questa occasione. Il tempo era perfetto quindi la spoil sport si dirige direttamente verso il relitto già il primo giorno il 22 ottobre. Quella mattina Tina e Gabe si svegliano e vanno a fare colazione insieme agli altri intorno alle 7 e un quarto e alle 8 e 30 iniziano le immersioni. Wade propone ancora una volta quel piccolo corso a Tina prima di fare quell'immersione ma lei e Gabe di nuovo rifiutano. Tina e Gabe si infilano le loro mute prendono le tanniche di ossigeno e si immergono in acqua. Gabe portava al polso un computer subacqueo che sarebbe una specie di orologio che verifica i vari parametri durante un'immersione quanto ossigeno hai cose così tipicamente misura anche la durata e la profondità in modo da poter calcolare la risalita così da evitare il malessere da decompressione. Una volta che Gabe e Tina si immergono e scendono di qualche metro però l'orologio di Gabe inizia a suonare indicava che ci fosse qualcosa che non andava qualche problema ma una volta tornati in superficie Gabe dice di non preoccuparsi che non era niente suonava perché le batterie erano inserite al contrario. Gabe torna sulla barca e gira le batterie dal verso opposto richiude il computer dice che ok il problema era risolto ora funzionava tutto ma prima fa mettere a Tina una cintura con dei pesetti in più perché riteneva che non ne avesse abbastanza in quel modo sarebbe stato troppo complicato per lei riuscire a scendere in profondità nell'oceano. Gabe e Tina quindi si rimmergono in acqua iniziano la discesa aiutandosi con una fune arrivano nella parte posteriore del relitto e iniziano a nuotare ma quasi subito Gabe racconta che Tina inizia a fargli segno di tornare alla fune che avevano praticamente appena lasciato c'era qualcosa che non andava. La corrente però era più forte di quella a cui erano abituati e li allontana molto velocemente. Gabe quindi le prende la mano ma nota che Tina continuava a cadere a scendere in profondità molto rapidamente quindi decide di lasciarle la mano per gonfiare un po' di più il suo giubbotto gonfiabile e fa per andare verso Tina per gonfiare anche il suo. Non si sa perché non abbia pensato di gonfiare subito quello di Tina ma forse è andato nel panico non si sa. Ma Tina continuava a sprofondare molto velocemente così Gabe la ferra dal giubbottino e prova a trascinarla verso la fune così che potesse aggrapparsi e risalire in superficie ma nel farlo Tina che ormai era nel panico gli mette le mani in faccia lo colpisce agitandosi e così facendo gli sposta la maschera facendola riempire di acqua e gli toglie anche il boccaglio dalla bocca. A quel punto Gabe molla la presa lascia andare Tina per riuscire a in qualche modo ripulire la sua maschera e per rimettersi il boccaglio in bocca e quando prova di nuovo ad afferrarla si accorge che Tina stava continuando a cadere sempre più in profondità molto velocemente e con le braccia allungate verso di lui tentando di afferrarlo e gli occhi sbarrati pieni di terrore. Gabe racconta che a quel punto lui nonostante fosse addestrato per quel genere di situazioni entra nel panico più completo perché capisce di non riuscire a scendere abbastanza velocemente per salvarla e decide quindi di risalire in superficie e di lasciarla lì che è tipo la prima e più importante regola nelle immersioni non lasciare mai 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 il tuo compagno. Gabe quindi risale in superficie e comunica quello che è successo chiedendo aiuto. Nel frattempo Wade il responsabile del viaggio si trovava sott'acqua praticamente sul fondale insieme ad altri due diver che si stavano scattando delle foto e proprio in quel momento vede il corpo di Tina immobile sul fondale del mare e capisce subito che qualcosa non va. Si guarda intorno per cercare suo marito ma vede che con lei non c'era nessuno. Questa cosa come già detto era molto strana. Comunque Wade l'afferra subito e la porta in superficie sale su una barca che era più vicina loro che nel frattempo era arrivata con altri turisti a bordo e prova a farle la rianimazione insieme ad altre persone presenti. C'erano anche due medici a bordo e tutti provano a salvarle la vita per 40 minuti ma senza nessun successo. La cosa che viene subito notata però è che nel processo di rianimazione a Tina non esce acqua dalla bocca, gliene esce proprio pochissima e questo era molto strano. Quando una persona annega l'istinto gli fa tirare dei grossi respiri, il tuo corpo cerca disperatamente dell'aria e così facendo ovviamente essendo invece sott'acqua inali tantissima acqua che finisce nei polmoni e al momento della rianimazione quest'acqua viene tirata su dai polmoni e ti esce dalla bocca, ti esce molta acqua dalla bocca. Ma Tina no, questo significava che non fosse morta annegata. Ma in tutto ciò vi starete chiedendo ma Gabe dove era? Beh lui non era neanche lì con loro. Gabe si trovava sulla Spoilsport che era a qualche metro da quest'altra barca e quando Ken, il ragazzo americano con cui aveva fatto amicizia, lo vede senza Tina gli chiede Gabe dove è cosa è successo? E Gabe gli risponde non è riuscita a risalire, aveva troppo peso addosso, è andata nel panico ed è affondata giù. E quest'uomo lo guarda negli occhi e gli dice ma cosa stai dicendo? L'hai lasciata lì? E Gabe risponde dovevo cercare aiuto. E Ken a quel punto dice di averlo fissato negli occhi per un po' di tempo e dice di avergli detto Gabe dimmi che non l'hai fatto davvero. Al che Gabe non risponde nulla. Ken è confuso e in quel momento vede in lontananza l'altra barca e vede che proprio in quel momento stavano provando a rianimare Tina. Era assurdo per lui e per tutti gli altri presenti che Gabe non avesse voluto essere portato sull'altra barca per stare vicino a quella che era sua moglie da soli 11 giorni. Quando glielo propongono lui risponde che no non voleva andare perché non voleva vedere Tina in quelle condizioni. Non avrebbe retto. Una delle mogli del loro gruppo a quel punto va da lui e gli chiede se ci fosse qualcosa che poteva fare per lui. Al che Gabe le risponde sì avrei proprio bisogno di un abbraccio. Dopo 40 minuti uno di quelli che stavano cercando di salvare Tina raggiunge Gabe sulla Spoilsport e gli comunica che sua moglie purtroppo non ce l'aveva fatta. Ora alcuni dei presenti raccontano che il comportamento di Gabe non aveva alcun senso. Non sembrava avesse avuto una reazione normale ad una notizia del genere. Non sembrava abbastanza sascosso. E inoltre durante il viaggio di ritorno, perché ovviamente sono subito tornati verso il porto, Gabe parlando con la gente diceva frasi tipo perché come sai mia moglie oggi è morta. That sucks. That sucks è un'espressione in inglese per chi non lo sapesse che letteralmente significa che schifo, una cosa che fa schifo e si usa in situazioni negative ma leggere tipo che ne so oggi volevo andare al cinema ma il cinema è chiuso. That sucks. Tipo che sventura. Oggi mia moglie è morta. That sucks è un po' insolita come frase, un po' di cattivo gusto. O almeno i presenti hanno pensato questo. Ma è anche vero che ognuno reagisce al trauma, alle tragedie in modo diverso. Arrivati sulla terraferma Gabe telefona subito a suo padre e gli comunica la brutta notizia. gli chiede per favore se potesse telefonare lui al padre di Tina per dirgli che sua figlia era morta perché lui non aveva il coraggio di farlo. Il padre di Gabe, David, quindi telefona a Tommy, il padre di Tina, che in quel momento si trovava in un viaggio di lavoro in Florida. Gli chiede se fosse da solo e poi gli dice Tommy io non so come altro dirtelo, c'è stato un incidente e tua figlia e annegata. A Tommy immediatamente cedono le gambe, cade per terra e inizia a piangere. Chiede al padre di Gabe se per favore può non dire nulla al resto della sua famiglia, alla madre e alla sorella di Tina, in quanto avrebbe preso immediatamente un aereo e sarebbe andato lui a dirglielo di persona. Gli stava da casa solamente circa un'ora di volo e il padre di Gabe ovviamente gli dice di sì certo non avrebbe detto niente. Tommy quindi si dirige subito all'aeroporto e nel viaggio prova a richiamare il padre di Gabe, David, ma non riceve nessuna risposta e David invece di rispondere a Tommy chiede al reverendo della loro chiesa di richiamarlo e parlarci, lo stesso reverendo che aveva unito in matrimonio Tina e Gabe neanche due settimane prima. Tommy quindi parla con il reverendo e gli chiede notizie in più perché si rende conto che in preda allo shock non aveva neanche chiesto i dettagli di come fosse morta sua figlia. Il reverendo gli dice che non aveva molti dettagli ma lo avverte che i telegiornali stavano già parlando della cosa e che quindi c'era il rischio che il resto della sua famiglia potesse venire a conoscenza della notizia in quel modo attraverso la televisione e infatti è stato proprio così. Quando la sorella di Tina quel giorno va a lavoro tutti i suoi colleghi sapevano già della morte di sua sorella prima ancora di lei e quando Tommy il papà di Tina atterra e torna a casa scopre che la madre di Gabe era già partita e aveva già raggiunto Gabe in Australia, aveva già prenotato il volo, ottenuto i visti, tutto quanto e questo a Tommy sembra davvero molto strano perché lui aveva saputo di quella terribile notizia solo due ore prima. Da quanto tempo invece la famiglia di Gabe era a conoscenza della cosa e li aveva tenuti all'oscuro? Comunque Tommy arriva a casa, comunica al resto della famiglia la tragica notizia e poi prova a contattare numerose volte sia Gabe che suo padre ma nessuno dei due rispondeva né li richiamava e non capivano perché, perché Gabe non li aveva ancora chiamati. Contatta quindi il consolato americano in Australia e tramite loro dopo quasi 12 ore riescono finalmente a parlare con Gabe che gli racconta quello che era successo, gli racconta che lui aveva provato a salvarla ma non ci era riuscito, che l'immagine di Tina che sprofondava guardandolo negli occhi sbarrati pieni di terrore lo perseguiterà fino alla fine dei suoi giorni. Racconta che mentre le facevano la rianimazione lui era lì con lei, le stringeva la mano e urlava il suo nome. Tina, Tina, Tina. Cosa che sappiamo non essere vera. Lui non era neanche voluto salire sulla barca su cui stavano rianimando Tina. I genitori di Tina tra le lacrime e i singhiozzi gli rispondono che non doveva preoccuparsi, che erano certi che Tina sapesse che lui l'aveva lasciata per andare a cercare aiuto, che aveva cercato fino all'ultimo di salvarla. Erano certi che avesse fatto il possibile per salvarla e gli chiedono anche se avesse bisogno di qualcosa, che se avesse voluto loro lo avrebbero raggiunto in Australia all'istante ma lui risponde di no, che non ce n'era bisogno. Tommy, il padre di Tina, non sa nulla di diving, non è a conoscenza di come funzioni quel mondo, quindi non sa che è effettivamente molto strano che Gabe abbia abbandonato sua figlia sott'acqua in quel modo. Ma c'è qualcosa, quel sesto senso dentro di lui, che gli dice che Gabe non gliela stava raccontando giusta, ma non può fare altro che mettere a tacere quella sensazione. Si convince che fosse il dolore accecante che stava provando a parlare, a fargli pensare cose che non esistevano. Decide quindi di credere a Gabe. La polizia comunque interroga Gabe per capire che cosa fosse successo. Lui dà di nuovo la sua versione della storia. Si sono immersi insieme, Tina ad un certo punto è andata nel panico, agitandosi, gli ha tolto la maschera e il boccaglio e lui ha dovuto lasciarla andare per aggiustarsi. A quel punto lei era già sprofondata, aveva capito che non ci fosse nient'altro che potesse fare e quindi era risalito in superficie per cercare aiuto. Nel tragitto dice anche di aver incontrato altri due diver e di aver provato a chiedergli aiuto, facendogli il segnale d'emergenza che però a detta sua questi due hanno totalmente ignorato. Il medico legale David Williams analizza il corpo di Tina e determina che la sua morte non fosse in nessun modo legata ai suoi problemi di cuore. Stabilisce che la causa della morte era stata annegamento, ma la causa dell'annegamento era indeterminata. A questo punto comunque la polizia non ha grossi dubbi su Gabe, sono convinti si sia trattato di un incidente. Sì era strano che Gabe l'avesse lasciata sott'acqua, ma la gente fa cose strane e stupide quando entra nel panico. Ma cinque giorni dopo Gabe, che a questo punto era insieme a sua madre che lo aveva raggiunto in Australia, ricontatta la polizia e richiede un secondo interrogatorio perché c'erano dei punti che voleva chiarire con loro. In questo interrogatorio però comincia a cambiare la sua versione. Racconta che prima di tutto lui quel giorno non aveva nessuna idea dei pericoli che si correvano facendo quel tipo di immersione. Nega anche che Wade, l'istruttore responsabile del viaggio, avesse proposto più volte di fare un corso a Tina e cambia anche la versione sulle correnti. Nel primo interrogatorio aveva menzionato le correnti, aveva detto che c'era un po' di corrente più di quella a cui era abituato, ma questa volta racconta che era la corrente più forte che avesse mai visto in tutta la sua vita. Anzi era stata proprio la corrente così forte ad aver causato il panico di Tina. Qualche giorno dopo Gabe e sua madre tornano negli Stati Uniti insieme al corpo di Tina e finalmente la sua famiglia può organizzare il funerale. Al funerale ci sono tutte e due le famiglie, gli amici, ma la migliore amica di Tina, Amanda, racconta che Gabe in quell'occasione si comporta in un modo davvero da brividi, a dir poco inappropriato. Fa una serie di commenti davvero di cattivo gusto tipo guardando il corpo di Tina nella bara perché c'era la bara aperta. Dice beh almeno le sue tette stanno bene in quel vestito. Oppure meno male che non aveva una polizza di un milione di dollari perché sennò avrebbero accusato me. E come se non bastasse l'aveva anche visto andare vicino alla bara e di nascosto aveva tolto dal dito di Tina l'anello di fidanzamento che le aveva regalato e se l'era infilato in tasca. Amanda, l'amica di Tina, racconta di aver provato a rimanere amica di Gabe dopo la sua morte ma questo fino al Natale successivo. Quando aveva ricevuto una cartolina natalizia in America si usa mandare cartoline natalizie a Natale con la foto tipo della mia famiglia buon Natale della mia famiglia la tua cose così e su questa cartolina Gabe aveva messo una foto sua e di Tina una foto della loro luna di miele con scritto chi è quel ragazzo sexy a fianco a Tina? Oh sì sono io con una faccina sorridente accanto. Tutto bene. Amanda quindi dice di aver cestinato quella cartolina disgustata e di aver avuto una bruttissima sensazione. Ha pensato che in Gabe ci fosse qualcosa di davvero strano e da quel momento non gli ha mai più rivolto la parola. Intorno allo stesso periodo del funerale Ken e Paula Snyder vi ricordate la coppia americana con cui avevano fatto amicizia a Tina e Gabe sulla barca? Decidono di contattare la famiglia di Tina. Ken non riusciva davvero a togliersi dalla testa quanto fosse strana quella storia e quanto fosse stata strana la reazione di Gabe. Decide quindi che non può vivere serenamente senza parlare al padre di Tina. vuole dirgli tutto quello che sa tutto quello che ha visto. Riesce a rintracciarlo e i due si incontrano. Ken gli dice molto schiettamente che in tutta la sua esperienza da diver non aveva mai sentito una storia simile in cui un diver esperto come lui abbandona la sua compagna in quel modo. Oltretutto un rescue diver come Gabe che quindi era anche addestrato per salvare le persone addestrato a saper reagire in quel tipo di situazione. Inoltre dice a Tommy un diver in preda al panico non affonda così tranquillamente come era affondata sua figlia. Un diver nel panico si dimena e fa di tutto per riuscire a risalire in superficie a meno che non sia già morto. Gli dice una frase che si può tradurre più o meno con a casa mia le persone vive non affondano in quel modo solo i morti affondano così. Gli racconta anche che Gabe non era mai andato ad assistere sua moglie mentre gli altri tentavano di rianimarla e insomma gli racconta anche tutti gli altri comportamenti strani che aveva avuto. Questo incontro cambia tutto nella testa di Tommy. Fino a quel momento si era davvero voluto convincere che fosse stato un incidente anche se in fondo aveva sempre saputo che ci fosse qualcosa che non tornava ma ora non sapeva davvero più cosa pensare e solo pochi giorni dopo riceve una telefonata da parte di Gabe che conferma tutti i dubbi che ormai si erano insinuati nella sua testa. Gabe gli comunica che anche se solo per dieci giorni lui era comunque il marito di Tina di conseguenza aveva il diritto di entrare in possesso di tutte le sue proprietà. Gabe aveva anche tentato di riscuotere la famosa assicurazione sulla vita di Tina ma aveva scoperto che sorpresa lei non aveva cambiato il beneficiario come gli aveva detto. Vi ricordate che suo papà le aveva detto ma sì lo facciamo quando torni dalla luna di miele? Per fortuna non l'aveva fatto così Gabe non è potuto entrare in possesso di quei soldi. Inoltre Gabe aveva voluto fare anche un'altra assicurazione sanitaria prima di andare in viaggio che però non si era accorto di essersi sbagliato e di averne presa una che non copriva gli incidenti nelle immersioni quindi non ha potuto neanche riscuotere quei soldi e questa cosa fa arrabbiare Gabe non poco. Dice che l'impiegato assicurativo sapeva che Gabe e Tina avrebbero fatto immersioni quindi perché non gli ha fatto correggere la polizza. La cosa lo fa così tanto arrabbiare che tenta anche di fargli causa ma il suo avvocato gli sconsiglia caldamente la cosa dicendo che non avrebbe fatto proprio una bella figura agendo in quel modo e in effetti tutti iniziano a vedere quanto Gabe sembrava essersi scaldato di più alla notizia di non poter ricevere i soldi che alla notizia della morte di sua moglie. Nel frattempo Tommy il padre di Tina decide quindi di andare in Australia e parlare di persona con la polizia. Una volta arrivato lì scopre che anche la polizia aveva iniziato a sospettare di Gabe. Dopo quel secondo interrogatorio in cui aveva cambiato la sua versione e dopo aver interrogato tutti i testimoni presenti quel giorno unendo le testimonianze ai fatti e all'autopsia la polizia aveva iniziato a mettere insieme i pezzi ma ufficialmente non potevano dichiarare quella morte né un incidente né un omicidio perché comunque non c'erano abbastanza prove ma c'erano sicuramente abbastanza elementi per aprire un'investigazione criminale che è quello che avevano fatto. Durante questa investigazione esce fuori una foto una di quelle coincidenze che ti lasciano a bocca aperta. Uno dei diver che aveva fatto delle foto dell'immersione aveva fatto appunto delle foto anche sott'acqua e si era accorto che aveva fotografato per caso il momento esatto in cui Wade l'istruttore si era accorto della presenza del corpo senza vita di Tina. Questa foto fa il giro del mondo in pochissimi giorni e viene pubblicata su tutti i giornali e fa davvero venire i brividi. C'è un diver che è in posa diciamo per la foto e alle sue spalle si vede il corpo di Tina sdraiato senza vita e a faccia in su sul fondale e Wade che nuota verso di lei per salvarla. Grazie a questa foto la polizia riesce a risalire alla posizione esatta del corpo di Tina che contraddiceva completamente la storia di Gabe. Lui diceva di averla lasciata in un posto mentre invece non era assolutamente così. Inoltre avevano anche interrogato appunto tutti i diver che erano presenti quel giorno e nessuno aveva visto Gabe chiedere aiuto sott'acqua come invece aveva detto lui di aver fatto i segnali di emergenza che erano stati ignorati. Nessuno ha visto questa cosa. Viene fuori anche che la cintura di Tina conteneva più del doppio del peso che avrebbe dovuto contenere. Chiaramente il peso della cintura varia in base al peso del diver. Tina col suo peso avrebbe dovuto portare con sé non più di 3 chili e invece ne aveva addosso più di 9. Per forza che sott'acqua veniva trascinata giù in quel modo e Gabe avrebbe dovuto saperlo. Ma il mistero rimaneva. Come era morta Tina? La polizia aveva una teoria. Come abbiamo già detto c'era davvero pochissima acqua nei suoi polmoni. Questo si pensa è successo perché Tina perdendo i sensi aveva insomma la sua bocca si era un po' rilassata e di conseguenza si era aperta un po' di più rispetto al boccaglio. In questo modo era entrata un po' di acqua. Ma la domanda era che cosa l'aveva fatta svenire e come fa uno svenimento a trasformarsi in morte? La polizia dichiara che l'unica teoria che avevano l'unica teoria valida perché ne avevano vagliate diverse ma l'unica valida secondo loro era che Gabe le avesse chiuso le bombole per l'ossigeno così da farle perdere i sensi per poi riaprirle prima di lasciarla affondare giù grazie ai 9 chili di pesetti che le aveva messo addosso. Su questa teoria ci sono pareri contrastanti. Un diver esperto di nome Michael McFaden dice che questa cosa non è possibile perché ci sarebbe voluto troppo tempo per fare tutto ciò. Tenere Tina, chiuderle le bombole, aspettare che respirasse tutta l'aria rimasta nei tubi, aspettare che perdesse i sensi, riaprire le bombole e poi lasciarla andare. E in ogni caso nelle bombole di Tina mancava molta aria. Se Gabe gliel'avesse chiuse avrebbe dovuto esserci molta più aria dentro, quasi tutta dato che si erano immersi con le bombole piene ed erano rimasti sott'acqua sieno 7 minuti. Invece molta aria nelle bombole di Tina era stata usata. Questo poteva indicare un attacco di panico. Quando si è nel panico si respira molto più in fretta e a volte si può anche svenire. Quindi forse il panico poteva giustificare lo svenimento, ma di nuovo come si passa dallo svenimento alla morte? Un altro testimone rilascia una dichiarazione davvero davvero inquietante. Il dottor Stutz, un uomo che si trovava lì quel giorno sull'altra barca, quella su cui avevano portato Tina tentando di salvarla, e si era immerso subito dopo Tina e Gabe. Racconta di aver notato delle cose molto strane. Racconta che Tina si era immersa per prima e subito dopo si era immerso Gabe. Erano scesi di qualche metro e dopo pochi minuti aveva visto la diver più piccola, che era Tina, divincolarsi in modi bizzarri. Riusciva a vedere chiaramente che fosse nel panico perché muoveva le braccia in modo strano e aveva gli occhi sbarrati. Subito dopo vede il diver più grosso, che sarebbe Gabe, salirle tipo di sopra. Si trovavano tutti e due in posizione orizzontale, sott'acqua, quindi Gabe le era salito di sopra e si era completamente avvinghiato a lei. Le aveva stretto le gambe intorno al bacino e le braccia intorno alle spalle ed era rimasto in quella posizione per circa 30 secondi, stringendola così mentre lei si divincolava. Il dottor Stutz dice di non essere riuscito a vedere se per caso Gabe stesse maneggiando qualcosa, facendo qualcosa dietro la schiena di Tina, ma è possibile che fosse proprio quello il momento in cui le aveva chiuso le bombole e aveva aspettato che perdesse i sensi. Successivamente aveva visto Gabe lasciare andare Tina e risalire in superficie. Da dove si trovava questo dottor Stutz non riusciva a vedere il fondale, quindi aveva solo visto Tina sprofondare nell'oscurità più totale, che è un'immagine che mi mette i brividi solo a pensarci. Immediatamente il dottor Stutz aveva raggiunto il suo compagno, aveva iniziato a fargli dei segni chiedendogli se avesse visto che cosa era successo e proprio in quel momento aveva visto Wade prendere Tina e portarla in superficie. Questa testimonianza chiaramente è cruciale nell'investigazione. Si fanno avanti anche altri testimoni dicendo di aver assistito a comportamenti di dubbio gusto da parte di Gabe nei confronti di Tina, non durante la loro luna di miele ma in generale. Per esempio la coppia era stata vista anni prima in un ristorante e questo testimone ricorda che Tina non si era comportata esattamente come voleva Gabe e di conseguenza lui davanti a tutti aveva preso della pizza e gliel'aveva tirata addosso. Oppure il famoso anello di fidanzamento, molti loro amici e conoscenti si fanno avanti raccontando di come lui la manipolasse con quella scusa dicendole che non gliel'avrebbe dato finché lei non avrebbe fatto quello che voleva lui. Un principe ecco. Durante l'investigazione vengono fuori anche altri elementi che probabilmente avevano contribuito a quel tragico incidente. A quanto pare Gabe non era così un diver esperto come diceva di essere. Vi ricordate che sulla barca il responsabile aveva suddiviso l'esperienza dei diver a bordo in rossi, gialli e verdi. I rossi erano i più esperti, i verdi i meno. E per essere un rosso doveva avere alle spalle più di 50 immersioni ma immersioni in mare aperto. Invece Gabe aveva fatto sì 55 immersioni ma solo 15 di queste erano state fatte in mare. Quindi sarebbe dovuto rientrare nella categoria gialla, non rossa. Ma Gabe non aveva specificato questa cosa e per legge la scuola di diving con cui erano andati a fare questa escursione avrebbe dovuto tipo costringerli a fare quel piccolo corso che più volte avevano proposto a Tina. Avrebbero dovuto insistere di più e in alternativa fargli firmare un foglio in cui dichiaravano di essere a conoscenza dei rischi che correvano eccetera eccetera che invece non avevano fatto, non avevano firmato nulla. Quindi anche la compagnia di diving con cui erano andati non aveva seguito le regole proprio alla lettera e infatti passeranno anche dei guai e dovranno pagare delle multe molto salate. Comunque il tempo passava e il comportamento di Gabe continuava ad essere sempre più bizzarro. Per esempio Tommy, il padre di Tina, andava tutti i weekend alla tomba di sua figlia al cimitero e le lasciava sempre dei fiori. Ma ogni volta che ci tornava la settimana dopo i fiori erano misteriosamente scomparsi, tutte le sante volte ed era convinto che in qualche modo Gabe fosse coinvolto. Ma non capiva il perché, perché avrebbe dovuto fare un gesto tanto orribile togliere i fiori dalla tomba di sua figlia. Ma la cosa continuava a succedere ancora e ancora quindi ad un certo punto Tommy decide di mettere una telecamera nascosta poco lontana dalla tomba di Tina e quando riguarda il filmato vede proprio Gabe che si aggirava intorno alla tomba di sua figlia e ad un certo punto prendeva i fiori e li buttava per terra in mezzo alla strada e poi se ne andava. Tommy, dopo aver visto questo filmato, era devastato. Chiede a Gabe perché aveva fatto un gesto così orribile nei confronti di Tina, ma come giustificazione Gabe risponde che toglieva i fiori perché a Tina non piacevano i fiori di plastica, lo faceva per lei e in ogni caso il torto voleva farlo a lui, a Tommy, non a Tina. Perché sapeva cosa andava a dire in giro di lui che fosse un assassino e come se non bastasse dopo poco Gabe decide anche di far spostare la tomba di Tina e metterla in un loculo che aveva comprato lui e che si trovava neanche a 100 metri da quello in cui era sepolta in quel momento. Cioè l'ha fatta spostare solo per fare un dispetto al padre di Tina, come se questo povero uomo non avesse già sofferto abbastanza. Cioè ti ha detto come ultima cosa mi raccomando prenditi cura della mia bambina e dopo neanche una settimana che era con te è morta. No ma facciamo anche dispetti come bambini, io non lo so. Comunque le indagini continuano e nel frattempo Gabe aveva anche iniziato ad uscire con un'altra ragazza, una ragazza di nome Kim che conosceva sin dai tempi del liceo. E la cosa inquietante amici è che Kim assomiglia davvero davvero tanto a Tina. Vi metto la foto e ditemi se non è così. Ma Gabe sosteneva che no, le due non si assomigliavano per niente o perlomeno lui non la vedeva questa somiglianza. Kim e Gabe si sposano anche il 15 agosto del 2008. Gabe dichiara che Kim era molto comprensiva e accettava il suo passato, ma secondo molte persone questa povera donna non era a conoscenza di tutti i fatti. Comunque il 28 novembre del 2008 Gabe viene finalmente accusato della morte di Tina e viene estradato in Australia per affrontare il processo. Ma, c'è un ma, riesce ad ottenere un patteggiamento. Se avessero ritirato le accuse per omicidio volontario, allora lui si sarebbe dichiarato colpevole per omicidio involontario. Ammetteva quindi non di aver ucciso Tina, ma di non aver fatto abbastanza per salvarla. Durante il processo l'accusa aveva sottolineato che Gabe avesse dato alla polizia nel corso degli anni 16 versioni diverse di quello che era successo. I fatti erano che Gabe fosse un diver esperto, addestrato anche a portare in superficie diver nel panico, che aveva invece scelto di abbandonare sua moglie facendola sprofondare sul fondale dell'oceano senza fare grandi tentativi per salvarla, come tra l'altro aveva dimostrato anche il suo computer subacqueo. Non aveva inoltre né gonfiato il suo giubbottino, il giubbottino di lei, né aveva ridotto i pesi intorno alla sua cintura. Sarebbero bastate queste due cose per salvarla. Ma nonostante questo, Gabe viene condannato a soli quattro anni e mezzo di prigione, che vengono però sospesi dopo aver scontato solamente dodici mesi. La famiglia di Tina era estremamente delusa. Tommy dichiara che la sentenza di Gabe era una vergogna per l'Australia e il giorno dopo la sentenza il procuratore generale dell'Alabama riesce a fare appello e a far ottenere a Gabe sei mesi in più, quindi invece di 12 mesi ne avrebbe scontati 18. Nel maggio del 2010 il procuratore dell'Alabama dichiara di voler rifare il processo a Gabe però in America, in quanto il crimine da lui commesso, secondo il procuratore, era stato pianificato in America e inoltre diceva di essere in possesso di alcune prove che avrebbero anche potuto far ottenere a Gabe la pena di morte. Chiedeva quindi alla polizia dell'Australia di fornirgli tutte le prove contro di lui di cui erano in possesso. L'Australia però gli dice di no, noi non vi diamo nessuna prova se prima non ci assicurate di non fargli ottenere la pena di morte, perché la pena di morte andava contro la legge australiana mentre era invece in vigore nello stato dell'Alabama. Nel giugno del 2010 quindi il procuratore dell'Alabama accetta, anche se controvoglia, questi patti. Il 10 novembre del 2010 quindi Gabe viene portato in un centro di detenzione per le persone che devono essere deportate e il 25 novembre viene deportato negli Stati Uniti e viene immediatamente arrestato. Una volta arrivato in Alabama Gabe viene accusato di omicidio volontario e rapimento perché secondo l'accusa Gabe aveva premeditato tutto da tempo. Secondo loro aveva convinto Tina a prendere lezioni di diving nonostante i suoi problemi al cuore, l'aveva convinta a cambiare beneficiario sulla sua polizza sulla vita, cosa che per fortuna lei non aveva fatto ma lui non lo sapeva, l'aveva poi convinta ad andare in luna di miele in Australia a fare quell'immersione che comunque era molto pericolosa per lei, sapendo che molto probabilmente sarebbe andata nel panico e che avrebbe avuto problemi, per poi inscenare un incidente. Il nuovo processo inizia il 23 maggio del 2011 e fino a quel momento Gabe viene rilasciato pagando una cauzione di 100.000 dollari in libertà vigilata e con l'obbligo di star lontano dalla tomba di Tina che tra l'altro aveva voluto tanto farla spostare, vi ricordate l'aveva spostata a 100 metri da quella in cui l'aveva messa suo papà ma fino a quel momento l'aveva lasciata vuota, non c'era neanche il nome di Tina nella sua lapide. Inoltre, oltre questo, viene obbligato a ridare indietro tutte le proprietà di Tina, tutte le cose che erano di Tina e che si era intestato lui, vi ricordate aveva chiesto al padre di Tina di intestargli tutte le proprietà di lei essendo sua moglie anche solo per dieci giorni, quindi lo obbligano a ridare tutto indietro alla famiglia di Tina. Comunque al processo chiamano a testimoniare un suo amico con cui aveva fatto l'addestramento come rescue diver che afferma che Gabe si fosse addestrato per portare in superficie altri diver nel panico, ma per qualche motivo durante questo processo l'accusa non ha potuto presentare come prove tutti i comportamenti strani che Gabe aveva avuto dopo la morte di Tina, tutti quei commenti strani che faceva per esempio e non hanno neanche potuto presentare il fatto che avesse chiesto a Tina di aumentare la sua polizza sulla vita e mettere solo lui come beneficiario. Non chiedetemi perché ma non hanno potuto portare queste come prove che secondo me sono delle prove molto importanti soprattutto quella della polizza. Di conseguenza il giudice dichiara che non c'erano abbastanza prove per accusare quest'uomo di omicidio volontario e se l'avesse condannato sarebbe stato solo sulla base di speculazioni e congetture di conseguenza lo assolve. Inutile dire che la famiglia di Tina non troverà mai pace. Gabe invece ha dichiarato di essere sollevato, di aver fatto quello che ha fatto e di averlo accettato perché ormai non può fare niente per cambiarlo, può solo andare avanti e cercare di essere felice e continua a essere sposato con la sua nuova moglie Kim che è stata insieme a lui durante il processo ogni giorno e Gabe dice anche che neanche una volta le persone gli hanno detto poverino non riesco proprio a immaginare cosa si provi a perdere la propria moglie in luna di miele. Ha lamentato il fatto che la gente non fosse stata abbastanza empatica con lui. E purtroppo amici queste sono tutte le informazioni che ho su questo caso, sento che questo finale ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca o forse no. Lasciatemi un commento, ditemi voi che cosa pensate che sia successo. Pensate che Gabe abbia davvero premeditato tutto? Pensate che abbia fatto tutto con l'intenzione di uccidere la povera Tina? O pensate che sia stato solo un incidente? Lui non era effettivamente così esperto come diceva di essere e magari nel momento dell'effettiva situazione di emergenza, nel momento di agire, è andato nel panico e ha fatto la scelta sbagliata? Fatemelo sapere sotto nei commenti, grazie per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!